Vittorio esterna per il Fiuggi, che riesce ad imporsi sul Nereto per una reta a zero, continuando così la sua striscia di risultati utili consecutivi. Al minuto 7, prima munizione della partita, con il direttore di gara che mosse il cartellino già alla scatozza per un fallo su Manari. Al quarto d'ora, primo tiro della partita. Su una situazione di calcio d'angolo, Antonelli ci prova dalla distanza, ma il tiro viene murato dalla difesa. Ancora Nereto, con una palla messa in mezzo per Pedalino, che dopo averla stoppata l'appoggia per Cipriani, che però calcia alto. Alla mezz'ora, Falzetta salta l'uomo con un dribbling e prova a concludere sul primo palo, ma Novi respinge di piede. Al trentottesimo, tiro di Cipriani dalla distanza, ma colpisce male e la palla finisce alta sopra la traversa. L'un buon primo tempo del Nereto, al quarantacinquesimo arriva il gol del Fiuggi. Una palla finisce velenosamente in area, Ferrini controlla male e Sowet a distanza ravvicinata in sacca, portando la sua squadra in vantaggio. Finisce così il primo tempo. Secondo tempo soporifero, con pochissime occasioni da gol. Il Fiuggi controlla la partita cercando di sfruttare gli errori della squadra avversaria e il Nereto cerca invece di trovare il pareggio. Ad inizio ripresa Sowet segna il gol del 2-0, ma il direttore di gara annulla la rete per fuorigioco. Verso la fine della partita, il Nereto prova ad acciuffare il pareggio con un tiro innocuo di Monaco. Al quarantaquattresimo esce l'eroe di giornata a Sowet e al suo posto entra Tucci. Dopo quattro minuti di recupero, l'arbitro mette fine all'ostilità, con il Fiuggi che porta a casa tre punti molto importanti ai fini della classifica, permettendo alla squadra laziale il sorpasso al notaresco e raggiungendo il quarto posto in classifica. Avete sofferto un po' più del previsto oggi? Beh, più del previsto no, nel senso ci aspettavamo una partita difficile, una partita tosta perché sappiamo bene che in questo campionato non ci sono partite facili e tantomeno squadre diciamo allo sbando un materasso. Infatti abbiamo incontrato difficoltà, devo fare veramente complimenti all'allenatore e alla squadra del Nereto perché comunque è una squadra unita, una squadra che lotta, una squadra che gioca e che ci ha messo in difficoltà. Naturalmente poi abbiamo sbloccato la partita e andata da lì il secondo tempo siamo entrati con un po' più di sicurezza in noi e potevamo anche magari fare un altro gol, però credo che sia stata una partita sbagliata da noi all'approccio iniziale, però dopo ripresa subito a livello di test e anche a livello di gioco. Nonostante ciò sapevamo che era questa la difficoltà di questa partita. Siamo rammaricati più che altro perché la partita secondo me l'abbiamo gestita anche molto meglio di loro e soprattutto il primo tempo se c'era una squadra che doveva essere in vantaggio era il Nereto. Sappiamo che abbiamo dei deficit purtroppo a segnare, però ecco, a differenza di altre volte in Porto ci siamo arrivati diverse volte, però il calcio è questo. Non c'è nulla da rimproverare oggi ai ragazzi, purtroppo questo è. Noi andiamo avanti con dignità cercando di dire la nostra fino alla fine. Noi abbiamo il dovere con noi stessi di proseguire a testa alta e difendendo con dignità quello che è il nostro contratto di lavoro perché negli anni ci sono promozioni, salvezze, retrocessioni. Purtroppo tocca a tutti se non si raggiungono gli obiettivi sicuramente ci sono stati degli errori da parte di tutti, ma questo non significa alzare bandiera bianca e dare la possibilità a chiunque di pestarci i piedi.